Non c'è cultura senza un documento, tutto ciò che esiste non può essere dimenticato. Vila Maltitano è un importante documento, straordinaria testimonianza di cultura, una vera e propria unicità nel cuore di Valera. Il ragazzo era affascinato dai suoi setterteri di parco, una vegetazione dalle mille sfumature a pochi passi dal teatro polidiano. Alberi monumentali ed esotici, Naucarie, Icus, Val, sorprendevano all'interno di questa esotica cornice. Girarsi tra le stanze così riccamente arredate è un'esperienza veramente accattivata. Si respira un'atmosfera vissuta che ancora oggi ha legge. Sculture di famiglie, occhi delicati di fiori sempre freschi, aria tangibile di casa vissuta, che spesso si perde nelle tradizionali case musee. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!